Ciao, siamo finito questo tour, abbiamo terminato l'ultimo giorno al Cairo in Egitto, sì. Lisa, ciao, tutto a posto? Sì, abbiamo finito il nostro tour, siamo tornati al Cairo, è andato tutto molto bene, siamo divertiti dalla crociera, ci siamo rilassati, abbiamo conosciuto tanta gente simpatica e abbiamo mangiato moussaka, buonissima, e kofta nel villaggio beduino, è stato un bellissimo... Il villaggio beduino a Urgada, sì? A Urgada, sì, sì. Siamo stati molto contenti di tutta l'organizzazione del viaggio, ci hanno seguito sempre, non ci hanno mai lasciato da soli, e quindi chi vuole venire in Egitto chiami egyptonlinetour.com, giusto? Esattamente, e la guida, ricordate il mio nome? Nesma No, Nesma è la ragazza operator, io sono Ameni, la guida, Ameni. Ameni Ameni, ciao, ciao. Quale data siamo? Oggi 24, agosto 2013. Agosto 2013. Sentite sicuro in Egitto viaggiare, sicuro in Egitto? È sicuro viaggiare in Egitto? Sì, è sicuro viaggiare in Egitto adesso, perché ci sa, c'è tanta polizia che tiene tutto sotto complotto. Ok. No problema. No problema. Siete andati nelle strade, tranquilli, senza problemi, è diverso da quello che voi avete visto in media o uguale? Adesso è molto diverso, la situazione si è calmata, e ieri siamo stati al mercato Cal Calili, che sta proprio in centro, vicino la piazza dove sono stati gli scontri, quindi tutto è tornato tranquillo. E contrattare sempre, almeno diviso fatto. Ok, grazie a voi. Grazie a te. Grazie. I want to come in, guida. Anna, faggeba, Anna, faggeba, Anna, faggeba, Anna, faggeba, Anna, il guida. Ma è un mese. Insieme? Vieni, franzo. Viva l'Italia! Viva l'Italia uno! No, no, franzo, ti prego. Ti prego, no, eh? Lasci saluti all'Italia. Saluti all'Italia. Ok, you can say something for the guide? Ah, Amina. Amani. Cioè, lui vuol dire come era la guida. Ah, ultima, ultima. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Grazie. Grazie.